Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dei media euroatlantisti come il primo giornale italiano, almeno in rete, il Corriere della Sera che vedete, che oggi riassume la guerra in Ucraina, la situazione ucraina in questo modo incredibile. Mosca non ferma l'avanzata di Kiev a Kursk, quindi nella Russia del 91, ma colpisce i civili nel Donbass, come se l'esercito ucraino, da loro detto con l'acronimo inglese AFU, non mietesse vittime innocenti civili nei vari attacchi come per esempio quello di Kursko, quelli che sono stati a Bielgrond nelle varie incursioni in territorio russo internazionalmente riconosciuto. Evviva la sincerità e quindi l'equilibrio nella narrazione di chi non dice di fare un'informazione complementare come la mia, portando la prospettiva russa, volutamente, volutamente, ma di chi parla di professionismo, di un'informazione indipendente e quindi di un servizio pubblico equilibrato, giusto, onesto e sincero, a proposito dei commenti che mi sono più avuti, delle critiche negative nei miei confronti nelle ultime giornate per fare propaganda e quindi non dichiarare apertamente che le notizie siano di parte, quando io lo faccio ovviamente, sempre all'inizio di ogni contro rassegna stampa. Comunque, molti mi dicono che non devo assolutamente curarmi di queste persone che ormai posso definire tranquillamente, nei casi più gravi, non di chi fa critiche costruttive, come veramente scemi di guerra, lo posso dire. Iniziamo dalla prima notizia del giorno, quella del titolo. La reazione di Dmitry Medvedev, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, quello che gioca a fare il poliziotto cattivo al Cremlino. I nuovi, gli ultimi carri armati blindati dell'esercito russo saranno, ve lo prometto, dice ai russi, a Berlino. Una promessa quindi di portare i mezzi militari bellici russi di fronte a Reichstag, nella Berlino più centrale come 80 anni fa, quindi alla fine della seconda guerra mondiale, ai tempi, a fine di Hitler. La reazione di Medvedev si riferisce all'articolo in cui, secondo il russo, il giornale tedesco centrodestra, tra virgolette, la Bild, si inorgoglisce, festeggia il fatto che dopo 80 anni ci siano dei mezzi blindati militari e dei carri armati, forse, non ci sono delle prove per il Leopard 2, ad esempio, in territorio russo del 91, internazionalmente riconosciuto. Quindi un articolo, secondo Medvedev, come scrive lui stesso su X, potete vedere il messaggio in inglese, revancista occidentale, pieno di orgoglio per una cosa gravissima, vista dalla prospettiva di Mosca. La Bild ha parlato di almeno tre BNP, quindi veicoli a trasporto, fanteria, corazzati leggeri, Marder, nel territorio di Kursk, nella cittadina, ad esempio, di Suza. Importantissimo snodo energetico verso Slovacchia e Ungheria, importantissimo per la controrassegna stampa di oggi, quello che vedremo. Insieme, la commissione alla difesa del Bundestag della Camera Bassa tedesca, e va ricordato il suo presidente, Markus Faber, ha cercato di spiegare l'utilizzo dalla parte dell'esercito ucraino di Kiev, di mezzi e armi tedesche in territorio russo, in questo modo. Dopo la cessione, gli ucraini, quindi, possono farci quello che vogliono, e quindi diventano armi ucraine, cioè la Germania se ne lava le mani. E non tutti sono d'accordo con le decisioni del governo tedesco, dopo le pressioni fatte dall'America in questo senso, in Germania, tra l'elettorato, ma neanche nel partito di governo, la stessa espede socialdemocratica del cancelliere. La Build, questo è l'articolo riportato anche da Mondiner, di cui parlavamo prima, a cui c'è stata la reazione successiva di Medvedev. I vari martyr, quindi, di oggi, secondo il Ministero della Difesa russo, e quindi Andrei Belasov, si sono pubblicati dei video che testimoniano la distruzione di questi mezzi teutonici dalla parte di droni canikaze russi, come, ad esempio, i più famosi sono i Lancet, senza dubbio. Almeno tre martyr distrutti in questo modo, secondo quanto riferito dalla Build del famoso giornalista, famoso anche in Russia, per esempio il programma della Skabaeva, Julian Röpke, che ha parlato di come gli ucraini, però, abbiano dei problemi in questa avanzata tattica nel territorio di Kursk, nella Russia del 91 occidentale. Gli ucraini non hanno abbastanza difesa aerea disponibile, proprio anche per questi martyr, veicoli nato, non solo tedeschi, ma anche gli striker, ma anche i Bradley americani, di cui parleremo più in là. Molto presto, secondo Röpke, gli ucraini non avranno abbastanza carburante e gasolio da usare per questi mezzi, in questa offensiva in territorio nell'Oblast di Kursk, nella regione quindi russa. Ci sono delle voci contrarie alla decisione tedesca di permettere agli ucraini di usare, per esempio, i Marderi in territorio russo. Sarah Wagenknecht, quindi l'opposizione post-comunista, che comunque dimostra un certo apprezzamento per la politica estera di Orban in Ungheria, di Fidesz del governo ungherese. Ha reagito la Wagenknecht stessa, quindi capo del partito opposizione, questa mossa di Scholz straordinariamente pericolosa per gli sviluppi futuri della guerra, l'allargamento del conflitto escalatio, o escalation in inglese, secondo i globalisti. Non sono proprio felici i tedeschi in generale per l'installazione di missili a lunga gittata americani in territorio nazionale dal 2026. Nuovo sondaggio di un medio, un credo pubblico tedesco, Fünke Mediengruppe. Nuovo sondaggio demoscopico realizzato per questo consorzio mediatico da parte di Sivi. 5.000 partecipanti tedeschi, cittadinanza tedesca, almeno 18 anni. Domanda, porterà una tale installazione di missili americani a lungo raggio in Germania all'escalation, famosa militare dall'Ucraina verso ovest. 50% dei tedeschi ha risposto di sì, 38% no, 12% incerti, 12%. E quindi c'è anche la condanna all'interno del Partito Socialdemocratico tedesco, per esempio, di Rolf Mützenich, per quanto riguarda la decisione del cancelliere, il suo stesso partito quindi. Lui è un importante parlamentare del Bundestag e dell'SPD. In Turinja, in Sassonia, nel Brandeburgo, quindi tre lenda, stati federati tedeschi, ex DDR dell'Est, ci saranno molto presto ad autunno le elezioni locali. 26% nell'Est, nell'Ex Germania, nell'Est fate voi, 26% secondo i sondaggi appoggia questa installazione dei missili e il 60% si oppone. Nell'Ovest, Germania dell'Ovest, ex Ovest, anche se la Germania è ancora divisa in due, 50% appoggia queste installazioni di missili americani, il 36% si oppone solamente. Vedete che in ogni statistica la Germania è ancora divisa in due, nonostante i lunghi decenni passati, più di tre decenni dalla caduta del muro e la fine della cortina di ferro che è iniziata proprio in Ungheria ai confini austriaci per chi lo sa. La Russia continua a rafforzare le difese dopo quello che è successo a Kursk, proprio nel medesimo oblast occidentale della federazione guidata da Putin. Il Ministero della Difesa di Belasov ha pubblicato su Svezda TV, quindi televisione militare della Stella, delle immagini video ufficiali di nuovi BM-21 Grad, sistemi sillistici e di carri armati di Uran-Kamaz, e quindi veicoli blindati militari in arrivo, nuovi lunghi incolonnamenti dal capoluogo verso ovest, verso i confini dell'Ucraina del 91 zona di Sumi, per capirci. L'Ucraina ha attaccato in territorio russo attraverso l'utilizzo non solo di martyr tedeschi ma di veicoli blindati da trasporto fanteria corrazzati leggeri come Bradley e Striker, come ci sono delle immagini dalla parte russa che lo testimonierebbero secondo la prospettiva del Cremlino e di chi sta sul luogo, sul posto e documenta il tutto. Quindi i famosi blogger militari filo russi ma anche filo ucraini all'occorrenza. A Kursk i fatti di Kursk aumenteranno ancora di più il prezzo dell'energia. Gli ucraini controllano la città fondamentale in questo senso di suggia 6.000 anime 6.000 abitanti e per quanto riguarda il gas naturale il gas liquefato e l'NG ci saranno ulteriori aumenti nelle piazze come quella importantissima di Amsterdam l'ho visto e ve l'ho raccontato ieri. Questa volta a dirlo una fonte ufficiale di Gazprom portavoce ufficiale a livello commerciale Sergei Kuprianov su Telegram che è curioso di sapere cui protesta chi giova a questo aumento del prezzo del gas in ogni sua forma dagli urali quindi dalla Russia russo verso l'Unione Europea Slovacchia Ungheria in primis c'è anche la questione di lucoil e del petrolio che andremo a vedere i prezzi sono ai massimi rispetto al mese scorso e questo succede in estate quando tradizionalmente i prezzi sono più bassi e non più alti come qualcuno ha scritto nei commenti lasciamo perdere i più grandi esportatori di gas liquefato e l'NG nel mondo a fine 23 sono stati Stati Uniti guardate caso Qatar alleato degli Stati Uniti e Australia quindi nel locus nell'alleanza militare nella NATO del Pacifico tra virgolette quindi a chi giova qui c'è la risposta automatica Global Times qual è la versione ufficiale del presidente Xi Jinping in Cina del governo cinese del partito comunista attraverso il mezzo stampa più famoso in lingua inglese da parte di Pechino Global Times cosa scrive su Kursk quindi sull'invasione sull'attacco sull'incursione tattica Ucraina occidentale e Russia nel 91 questo peggiorerà e allargerà il conflitto almeno 6 civili morti 6 civili russi più di 60 feriti tra cui 9 bambini in ospedale tutto questo questo attacco di Kursk non farà altro che distruggere le piccole speranze di una trattativa per almeno un cessato in fuoco in Ucraina Stati Uniti assolutamente ipocriti scrive il giornale cinese da una parte cerca vuole ufficialmente limitare l'utilizzo da parte ucraina delle armi prodotte in America dall'altra aumenta la fornitura ai finanziamenti anche militari miliardi di dollari di pacchetti a Kiev gli Stati Uniti soffiano sul fuoco scrive Li Haidong l'editorialista che è un professore universitario molto importante in Cina la maggioranza del mondo il cosiddetto sud del mondo BRICS Shanghai eccetera volere contro il volere di questo sud del mondo gli Stati Uniti l'Occidente allargato Rammstein eccetera cerca di evitare in ogni modo dei patti o comunque un tavolo di trattative per riappacificare la questione e la crisi a Kiev e dintorni i russi in sei mesi di conflitto hanno conquistato più territori e non è questo l'obiettivo principale della Russia ma è quello di logorare le forze armate ucraina la famosa demilitarizazia detta più volte da Putin in sei mesi hanno conquistato più territori i russi stavo dicendo più di quanto quindi gli ucraini non abbiano fatto nella famosa controoffensiva estiva del 2023 592 chilometri quadrati contro i 321 scrive una fonte occidentale non filo russa il Financial Times di Londra l'Ucraina l'esercito ucraino soffre di una mancanza di nuove leve sappiamo tutti ormai delle mobilitazioni forzate censurate dalla stampa occidentale persino in Transcarpazia nell'oblast più occidentale ucraino i russi stanno sfruttando questi problemi di lezzam quindi di numerico all'interno delle forze armate di Kiev per sfondare sempre di più nelle zone di Pokrovsk e Toretsk in Donbass nel Daniesk nel silenzio generale della stampa principale italiana che bello presidente di Belgrado Aleksandar Vucic Mosca ha ufficialmente informato la Serbia di un occidente a guida statunitense che sta preparando un colpo di stato in stile Maidan nella nostra patria quindi a Belgrado informazione ufficiale attraverso canali ufficiali russi arrivati da noi a Belgrado ha detto il presidente serbo Vucic confermando il fatto che la Russia è pronta non si farà travolgere come nel 99 dalla Nato neanche col famoso soft power usato a Kiev nel 14-15 dalla Nuland e compagni quindi falliranno miseramente secondo Vucic americani e stati satelliti le opposizioni europeiste e americaniste quindi serbe sono pronte ad utilizzare secondo quanto scrive un giornale serbo Vesernie Novosti una grande marcia filo occidentale a Belgrado del 10 agosto prossimo per cercare di realizzare un copione uno scenario simile a Euromaidan quindi una rivoluzione colorata secondo la narrativa occidentale una rivoluzione popolare dal basso e non finanziata da 5 miliardi di dollari americani come rivelato poi dalla Nuland numero 2 del seretario di stato al tempo oggi ritirata tra virgolette l'unione europea è interessata molto con i patti siglati con Vucic nelle ultime giornate 19 luglio scorso a litio l'enorme riserva di litio e di metalli preziosi per la transizione energetica nel territorio serbo quindi balcanico e quindi dove ci sono le risorse naturali potrebbe arrivare un'esportazione di democrazia alla maniera americana come è successo più e più volte ad esempio in Nord Africa e Medio Oriente Tusk in Polonia governo europeista di piattaforma civica di grande coalizione a Varsavia e dintorni grande pulizia politica nel silenzio della stampa italiana europeista 62 personalità del precedente governo a guida diritto e giustizia PIS nazional conservatore euroscettico pende contro di loro quanto meno un processo penale per la questione dei fondi pubblici che sarebbero stati utilizzati in maniera illegale 100 miliardi di slot in Fiorini 9 mila miliardi di Fiorini sono decine se non centinaia di milioni di euro comunque vado così a naso su X la reazione dell'opposizione ex primo ministro Matteo Shumoraviecki quindi del PIS diritto e giustizia nazional conservatore piuttosto amico di Orban non proprio per la politica estera ecco il primo ministro attuale Tusk scrive su X come potete vedere in polacco ha creato un governo da un sistema chiuso in cui l'unico obiettivo è quello di mentire per arrivare a distruggere il più grande partito d'opposizione il nostro il PIS diritto e giustizia Tusk nella stessa conferenza stampa di ieri ha parlato ha accennato anche all'Ungheria al fatto di chiuderla dalla zona Schengen di quindi cacciarla dall'area Schengen per le decisioni del governo Orban Fides di come si può dire permettere ancora il visto per i cittadini russi e bielorussi quindi con i documenti rispettando quindi i trattati europei secondo Tusk questa potrebbe essere una mossa che dall'inizio alla cacciata dell'Ungheria dall'Unione Europea quindi bisogna pensarci su dice il primo ministro e quindi l'Ungheria secondo il polacco violerebbe lo stato di diritto europeo proprio lui che sta facendo una pulizia politica anche mediatica come in tvp testata televisione radio pubblica come è successo a dicembre 2023 l'ho raccontato in questo canale Stati Uniti questo è il sito il canale ufficiale dell'ambasciata di David Pressman americana in Ungheria Budapest come potete vedere anche scritto qui il titolo il nome in inglese vedete questa è la diplomazia americana il cosiddetto soft power potere morbido gli ultimi due tre video discorso di Pressman dell'ambasciatore contro Orban il governo ungherese il secondo video qui in basso al centro vuole dipendere solamente dall'energia fossile russa e non emanciparsi dalla Russia alla maniera detta da Giorgia Meloni in Italia e poi l'anniversario 25esimo anniversario dell'ingresso dell'Ungheria nella Nato come un ricordo dal 56 la lotta contro i russi e non i sovietici meglio che non commento ci sarebbe molto molto da dire piccola chicca la sezione commenti di questi video è assolutamente censurata chiusa le persone gli ungheresi soprattutto perché i video sono in ungherese non possono commentare quindi questo è uno stato che da lezioni di democrazia di diplomazia per esempio al ministro ungherese degli esteri agli esteri si e continua a votare male alle elezioni scegliendo Fidesz ma anche Mio Sank opposizione euroscettica a destra di Orban quella di Toroscoi Laszlo grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Orszag